Buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo uno strumento per togliere le maglie dai cinturini degli orologi permette di rimuovere i perni che tengono collegate le varie maglie dei cinturini degli orologi vedremo il suo funzionamento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti